Insomma, Cotronei è la capitale dell'olio in Calabria? Siamo alla settima edizione, è un appuntamento che vede una partecipazione crescente di aziende, quest'anno ci sono circa 140 aziende e questo è un risultato importante ed è il segno che questa iniziativa sulla quale abbiamo puntato, abbiamo investito sin dall'inizio, appunto è un'iniziativa in una regione a prevalente produzione olivicola come la nostra, è un'iniziativa destinata a crescere, ad affermarsi, ma soprattutto ad essere un punto di riferimento per l'olivicoltura calabrese e meridionale, perché noi stiamo ormai oltrepassando i confini della nostra regione. Noi siamo una televisione che vuole parlare spesso della Calabria positiva, questo è un pezzo della Calabria positiva? Assolutamente sì, noi stiamo insistendo su questo, stiamo insistendo sulla necessità di valorizzare gli aspetti positivi della nostra terra, questo non significa trascurare gli aspetti negativi, ma purtroppo per un lungo periodo si è parlato solo di aspetti negativi. Ho avuto modo di dire in altre occasioni che spesso i portatori di questa visione, di questo pregiudizio siamo proprio noi, siamo proprio noi calabresi, noi dobbiamo invece lavorare per valorizzare gli aspetti positivi che sono tanti, soprattutto nel mondo dell'agricoltura, ma non solo, che servono per combattere meglio gli aspetti negativi. Quando si incoraggia attraverso la valorizzazione degli aspetti positivi la fiducia, la riconquista della fiducia si rende un servizio alla legalità, si rende un servizio ad un percorso di crescita di un territorio. Laddove si è saputo guardare e investire sugli aspetti positivi si è determinata crescita e non viceversa. Laddove invece si è sempre accentuata l'attenzione sugli aspetti negativi o solo concentrata l'attenzione sugli aspetti negativi si è determinata solo depressione. Purtroppo noi abbiamo avuto un lungo periodo nel quale appunto questo atteggiamento vittimistico, autoflagellante, ha contribuito a comprimere le potenzialità del nostro territorio. Ormai col premio Verga, insomma, Cotronella, Capitale, Calabrese dell'Olio? Sicuramente il premio Verga sta acquistando un significato e un'attenzione non solo calabrese, ormai di carattere meridionale. Sono tutte le regioni del sud che partecipano, quest'anno anche una partecipazione significativa nonostante una pessima campagna olearia e fra poco avremo modo di premiare i vincitori in una logica proprio di ricerca della qualità, ma quest'anno ancora di più nella ricerca di quello che è la garanzia per il consumatore, tant'è vero che premiamo le etichette, cioè le etichette che siano in grado di dare la migliore espressività dal punto di vista delle qualità organolettiche, delle capacità di commercializzazione di quelli che sono gli oli inesistenti. Per cui non solo la ricerca della qualità ma anche la possibilità della spendibilità della stessa all'interno di quello che è il mercato, che deve essere un mercato che mira sempre più alla concorrenza affermando principi etici e valori morali.